Non si arrendono i lavoratori della formazione professionale che anche oggi sono stati davanti all'assessorato regionale a lavoro a Campobasso, poco distanti carabinieri e polizia. Ieri è scaduto il progetto sistema regionale di orientamento permanente per i 75 iscritti all'albo professionale e i 15 lavoratori in supporto è arrivata la lettera di sospensione e in pratica sono a casa. Dalla regione la doccia fredda, niente rifinanziamento del progetto, momenti di tensione nei giorni scorsi proprio con l'assessore Petraroia che nelle ultime ore ha scritto una lettera alla struttura regionale. Scrive che prima di tutto che sia nei corsi mobilità di primo o di secondo livello vanno tutelati i 75 operatori appartenenti all'albo regionale dei formatori. In che modo? In che modo non l'ha specificato anche se si capisce da quello che ha scritto che lui pensa che prima di tutto vanno tutelati con la mobilità di primo livello per i corsi che si stanno aprendo e che sono già aperti e che gli enti stanno svolgendo con personale non iscritto all'albo. Quindi in questo caso l'assessore Petraroia minaccia, cioè ordina la struttura di controllare la situazione e minaccia gli enti del ritiro degli accreditamenti in caso che non rispettano come le leggi ben specificano i contratti di lavoro della formazione e le leggi della regione molisse. Quindi voi dovreste rientrare in questo modo in questi corsi di formazione? Esatto, almeno per quando c'è possibile rientrare in questi corsi di formazione perché tutto sommato molti di questi corsi sono corsi in cui noi abbiamo insegnato fino a prima di andare in mobilità ma noi non abbiamo intenzione di andare come personale della regione, noi abbiamo intenzione di andare a fare quello che facevamo poco fa, gli orientatori con un progetto ma restando dipendenti degli enti di formazione. Sulla loro condizione i lavoratori della formazione professionale vogliono chiarezza. Siamo nell'inbo, noi non lo sappiamo perché la maggior parte degli enti ha comunicato che hanno avviato le procedure di cassa integrazione ma non ha comunicato nel frattempo gli operatori che cosa devono fare. Per cui nonostante le nostre richieste ci rispondono che non lo sanno neanche loro praticamente. In verità noi il contratto è nazionale e su tutte le ore non abbiamo dei contratti a tempo, abbiamo del contratto collettivo nazionale per cui dovremo essere a lente pagati. Il problema è pagati con quali soldi?